Mi chiamo Morena Ragone e all'interno del forum Multistakeholders di OGP rappresento Regione Puglia. Sono un avvocato, ho esercitato per diversi anni prima di entrare in pubblica amministrazione, ho sempre avuto la passione del diritto applicato alle tecnologie e questa passione oggi, che sono nell'ufficio responsabile della transizione al digitale di cui costituisco il supporto giuridico specialistico, posso utilizzarla, posso esercitarla anche all'interno della mia amministrazione. Ho incrociato casualmente le tematiche dell'OpenGov tanti anni fa, verso la fine del 2010 facevo parte di una associazione, quindi lato società civile, e mi è stato proposto di moderare un convegno sui dati aperti, tema che conoscevo per sentito dire, ma che ho approfondito in quella sede e di cui mi sono innamorata e quindi non ho più lasciato. Spero di poter dare un contributo fattivo, concreto, operativo, non solo per le esperienze fatte in questi anni, sia dall'esterno, sia all'interno dell'amministrazione, ma anche e soprattutto per la passione che metto nelle cose. Credo che questo possa fare la differenza e credo che le regioni, come la regione appunto Puglia, che rappresento, siano artefici di cambiamento all'interno del territorio, che possano portare competenze, che possano portare innovazione e che possano indirizzare, possano guidare gli altri enti del territorio. Mi aspetto però anche tanto da OGP, soprattutto mi aspetto che si possa creare una rete tra persone, al di là dei ruoli, al di là delle amministrazioni e delle associazioni che queste persone rappresentano, e mi aspetto che questa rete lavori per gli obiettivi comuni e per la realizzazione dei principi di OGP. Per quanto mi riguarda da parte mia farò il possibile perché questo si possa realizzare. Grazie.